Siamo con Antonia Peresson, post partita contro Brescia. Antonia, dimmi un po' le tue sensazioni per questo ritorno in A1. Dopo sei stata premiata l'altra sera, quindi due o tre giorni di intense emozioni. Sì, a livello individuale sono felice di essere tornata qui in A1 e sono state bellissime soddisfazioni. A livello collettivo è un peccato perché eravamo lì tutta la partita, è stata comunque una partita fatta di break contro break. Abbiamo fatto quel break finale nel quarto quarto a cinque minuti alla fine e non siamo stati bravi abbastanza a continuare ad andare. Dobbiamo tornare questa settimana, allenarci ancora più duramente e adesso dobbiamo pensare alla prossima e lavorare su ciò che non è andato oggi. E' quanto c'è un po' di amaro in bocca, penso, per come è andata la partita, per come poteva essere e non è stata. Sì, sono d'accordo perché eravamo consapevoli comunque dell'importanza di questa partita per noi e anche per loro e quindi che sarebbe stata una partita intensa. Comunque appunto appunto come poi si è rivelata. Quindi niente, sì, è rimasto la mare in bocca. Adesso, come ho detto prima, dobbiamo tornare in palestra, lavorare giorno per giorno, continuare a migliorare giorno per giorno e cercare di ritornare. Di resettare l'ultimo quarto perlomeno. Di resettare l'ultimo quattro, l'ultimo cinque minuti. Grazie mille.